Non solo squalifiche a seguito di gesti antisportivi, ma anche un fondo monetario da destinare agli enti locali. A lanciare la proposta è l'assessore allo sport del comune di Capaccio Pessum, Franco Sica, alla luce del gesto antisportivo del calciatore della Juventus, Douglas Costa, che nella partita contro il Sassuolo ha sputato in faccia ad un calciatore avversario. E di quello avvenuto qualche giorno fa in Moto2 con il motociclista Fenati, che in piena corsa ha tirato il freno a mano ad un altro motociclista. Di qui la proposta di un fondo monetario da destinare agli enti per la manutenzione sportiva. Si destinino i soldi delle pene monetarie, afferma l'assessore Franco Sica, alla creazione di un fondo da distribuire agli enti locali per provvedere ad adeguare le tante strutture sportive che ne hanno bisogno.